Ok, buongiorno dall'usciro Umberto di Meda, sono su una Patti, non a caso, dopo vi raccontrò il perché. Siamo reduci dalla premiere di ieri sera con il film di introduzione del Milan Design Film Festival, che è The Importance of Bain and Architect, la storia dello studio documentario sullo studio di Antonio Citterio e Patricia Ville, che è stato proiettato ieri sera, appunto in anteprima all'internale Design Milano, serata introduttiva del Milan Design Film Festival. È stato un film veramente bello, di grande ispirazione, vedere queste persone così capaci, così brave, chiaramente hanno ricevuto i più alti riconoscimenti in tutto il mondo, per cui italiani nel mondo che fanno, uno studio italiano nel mondo che fa cose grandi, grandissime, grandiose, riconosciute da tutti, cose spettacolari, progetti con una forza veramente importante e per quanto riguarda di grande ispirazione perché, insomma, vedere persone così brave non può che essere di stimolo, decisamente. Tanti ospiti, presentati a Silvia Robertazzi, la curatrice del Milan Design Film Festival, per cui dall'architetto Boeri, l'assessore Sacchi della cultura del Comune di Milano, l'assessore. E poi il talk finale con Canova e il regista Ferrero, bravissimo, con l'inserimento della musica, pazzesco. Questo inserimento di strumenti, lui arriva dal mondo della musica, anche noi arriviamo dal mondo della musica e devo dire che anche questo è stato di grande, grande ispirazione, fin da vedere, decisamente. E importante, cosa importante per noi, grande orgoglio perché avevamo sul palco tutte le nostre patti realizzate, progettate dai nostri designer Castello Lagravinese, bellissime, in abito scuro, anche loro, devo dire, una grande emozione vederele sul palco, protagoniste anche loro di questa premiere. E' bello per noi anche il fatto di aver portato in sala, in triennale, anche gli autori materiali, gli artigiani che materialmente hanno contribuito a realizzare le patti. Per me è stato veramente bello stare con loro e farli godere insieme a noi del lavoro che hanno fatto. Per cui, bello sì, sicuramente. Designer straordinari, architetti straordinari, design sui prodotti importantissimo, però è importante per noi che portiamo avanti questa idea di Made in Meda e di tradizione, di DNA, proiettata verso il futuro, però che appartiene a questo territorio di cui ci facciamo carico. Insomma, è stato bello. È stato bello stare con Flavio, con Giorgio e con tutto il team dell'Aberto a goderci lo spettacolo di ieri sera. Prima sera, la prima giornata è andata e adesso avanti con i prossimi appuntamenti per quanto riguarda il Milano Design Film Festival, rimaniamo in contatto e a manetta.